Ciao ragazzi bentornati sono sempre io Fabrizio Conte e questo è il vostro canale di fotografia oggi siamo qui per parlare diciamo per terminare il discorso sulla Nikon Z6 II terminare non lo so perché magari poi farò anche altri video dopo un uso molto intensivo nelle ultime settimane sono pronto a dirvi che cosa ne penso ovviamente poi nel tempo potrò aggiornare questa mia valutazione però dopo 15 giorni che l'ho tenuto in mano tutti i giorni e sono andato dal mare alla montagna dall'alba al tramonto dal giorno alla notte ho fotografato davvero di tutto posso dirvi cosa ne penso e come appunto la macchina reagisce ai diversi stimoli fotografici che vi si mettono davanti quindi non perdiamo altro tempo andiamo a vedere subito come si è comportata la nostra Z6 dopo la sigla allora signori come si è comportata dopo vi farò vedere anche alcuni scatti che ho realizzato l'ho provata come dicevo in tutte le situazioni quindi ho fatto un po' di avifauna ho fatto un po' di paesaggi ho fatto lunghe esposizioni sono stato al mare quindi ho scattato in notturna quindi ho testato la tenuta degli ISO la gamma dinamica davvero ne ho fatte di tutti i colori ho provato anche ottiche che non sono della serie Z ottiche top di Nikon quindi il 24-70mm 2.8 il 300mm f4 il 300mm 2.8 ho provato un po' di tutto e quindi vi do il mio parere ho preso degli appunti perché sostanzialmente di cose da dire ce ne sono tante allora per quanto riguarda iniziamo da i pro innanzitutto devo dire la costruzione ed il sensore la costruzione del sensore signori sono da macchine di un certo livello ovviamente è una macchina che costa anche abbastanza e devo dire che sì è fatta davvero bene poi per quanto riguarda la gamma dinamica la gamma dinamica mi ha soddisfatto la tenuta agli alti ISO mi ha soddisfatto però attenzione perché quando superate sostanzialmente gli 800 ISO se non avete attivato la riduzione del rumore in macchina i risultati non sono poi così soddisfacenti mentre se avete attivato la riduzione in macchina da normale a elevata ma anche diciamo bassa funziona un pochino meno però funziona potete arrivare anche a scattare a 3200-6400 dipende poi dalle condizioni di luce se siete proprio in assenza di luce sostanzialmente dopo i 1600 il rumore è molto evidente se siete in una condizione di tardo pomeriggio io l'ho provata ieri con le salamandre in tardissimo pomeriggio quindi dopo il tramonto sostanzialmente sono riuscito a fare delle foto decenti a 3200 ISO poi ve le farò vedere dove il rumore è sostanzialmente contenuto quindi la gamma dinamica e gli ISO funzionano bene ovviamente lasciate stare l'estensione tutte quelle cose pubblicitari di marketing che vi dicono 25.000 ISO, 50.000 ISO, un miliardo di ISO perché sì funzionano ma funzionano secondo me solo nel reportage quindi se sto vedendo un assassino nella notte scatto a 100.000 ISO ho la foto da pubblicare sul giornale ma ovviamente non è una foto fine art non sarà una foto da esporre in museo non sarà una foto da concorso fotografico almeno a livello tecnico magari a livello contenutistico però faccio una foto della Madonna e quindi sì, ne vale la pena comunque ci sono, potete utilizzarli sostanzialmente poi per quanto riguarda vediamo la messa a fuoco la messa a fuoco vedo in giro anche sugli USA molta gente che se ne lamenta ma io certa gente però non la capisco ci sono delle persone possessori di D6 ad esempio di Z9 che si lamentano la messa a fuoco della Z6 II ma signori non potete paragonare una macchina di 2.000 euro con una di 6-7.000 cioè non può essere la messa a fuoco della Z6 che è sostanzialmente una tuttofare avanzata diciamo una messa a fuoco appunto paragonabile con quella della Z9 che sono macchine esclusivamente se non solo progettate proprio per una fotografia dinamica quindi accontentatevi per me va benissimo poi vi faccio vedere, ho fatto anche uno short nella community di YouTube potete vedere che avevo fatto un video dove vi faccio vedere proprio il tracking della F secondo me funziona bene però non è fatta per quello, solo per quello funziona bene anche in quelle condizioni ma non è in massimo ovviamente è così una cosa che invece funziona bene è il rilevamento dell'occhio, del viso quindi del viso umano quello funziona abbastanza bene non è eccelso nemmeno quello non è paragonabile alla Z9 che ho provato trovate la recensione tra i miei video e quello è fenomenale sia quello per gli animali che quello per il viso quello della Z6 e degli animali lasciate proprio perdere perché non ce la fa almeno le condizioni che ho provato io non ce la fa e quello del viso invece se siete in studio funziona abbastanza bene anche all'aperto poi dipende che ottica utilizzate se siete molto larghi con dei grand'angoli no ma se siete sul 50, 70 delle ottiche da ritratto funziona abbastanza bene poi l'otturatore elettronico l'otturatore elettronico signori è una di quelle cose che mi ha dato l'input per comprare questa macchina è davvero una figata per chi fa fotografia naturalistica lo scatto silenzioso è il top signori non si sente assolutamente niente non si sente attenzione però nemmeno il rumore della messa a fuoco quindi state attenti perché magari pensate di aver messo a fuoco ma non avete l'avviso acustico della messa a fuoco quindi attenzione l'unico problema che ha l'otturatore elettronico è il rolling shutter che è molto evidente però cosa volete se fate panning ricordatevi di utilizzare magari l'otturatore a tendina e poi il rolling shutter è una cosa che esiste da anni non è che la risolvevano adesso quindi è un problema che esiste dovete stare attenti dovete sapere usare la macchina in determinate condizioni però voglio dire avete anche l'otturatore meccanico quindi utilizzate quello poi per quanto riguarda le lunghe esposizioni nelle lunghe esposizioni ripeto gli ISO e la gamma dinamica si comportano bene a patto che vi ricordate però di impostare le riduzioni del rumore sia sulle lunghe esposizioni sia sugli alti ISO perché sennò l'immagine non è poi così buona devo dire confronto alle reflex invece lì io la riduzione del rumore in macchina la utilizzavo davvero poco e i file erano molto molto migliori se paragonate diciamo ma vi ricordo che le reflex erano delle macchine impostate esclusivamente per la fotografia i sensori erano tarati esclusivamente per la fotografia e poi avevano quella feature in più che era abbastanza schifosa sulle Nikon del video ok tranne forse adesso le ultime 750-850 avevano dei video più o meno diciamo utilizzabili ma prima facevano veramente schifo le Nikon e quindi questo io l'ho detto sempre questo questo essere diventato del video reflex ha portato ad un peggioramento dei file fotografici secondo me soprattutto a livello dell'umore e a livello delle lunghe esposizioni secondo me è una cosa che appunto è stata peggiorata con il video quindi un sensore che faccia entrambi è una cosa abbastanza insolida quindi il sensore deve essere risettato o per fare le foto o per fare i video trovando appunto un compromesso si hanno questi problemi però nel video funziona bene attenzione poi la raffica per me la raffica signori è spettacolare non è sempre ripeto non è pari della D6 e della Z9 ma è davvero davvero buona si riescono a fare non so anche 40 scatti di fila il doppio processore funziona bene perché non state lì come era ad esempio nel reflex mezz'ora ad aspettare che si ricarichi il buffer quindi è molto funziona davvero molto bene poi il display touch il display non il mirino attenzione il display il monitor esterno quello basculante è molto buono ha il touch screen che è una figata mi è piaciuta poi la tropicalizzazione attenzione l'altra notte sono stati a scattare una tempesta di fulmini a Maratea ok siamo stati sotto l'acqua soprattutto l'ultimo quartio d'ora è venuto proprio il diluvio universale e mentre raccoglievamo i treppiedi le macchine aprivamo la macchina e buttavamo la roba dentro ci siamo proprio fracicati con noi anche la macchina devo dire top è arrivata a casa ancora bagnata l'ho asciugata a casa quindi dopo due ore di viaggio signori non è successo praticamente niente quindi tropicalizzazione devo dire davvero davvero molto ben fatta il doppio slot finalmente appunto dopo la Z6 è stato messo il doppio slot quindi il doppio slot funziona per me è comodo è pratico potete scattare in raw e jpeg perché il jpeg magari lo trasferire direttamente sul cellulare per instagram eccetera eccetera avete questa cosa qua un'altra cosa che mi è piaciuta tanto sono le funzioni e le personalizzazioni trovate il video sulla personalizzazione sul setting del menu sotto nei miei video l'ho fatto poche settimane fa e quindi potete rendervi conto di quante cose potete personalizzare di quante funzioni potete attivare quanti menu avete proprio personalizzabili e quanti tasti avete da personalizzare quindi diciamo potete cucire addosso davvero la vostra macchina fotografica sul vostro stile fotografico questo è molto importante perché trovate poi al momento giusto quando avete poco tempo quando dovete reagire alla scena avete il tasto giusto al momento giusto la connessione wifi la connessione wifi devo dire signori funziona bene è molto veloce e se la lasciate attiva mentre scattate vi trovate le foto sul cellulare quindi devo dire top gran lavoro di Nikon devo dire però che l'app invece che viene fornita Snapbridge non è un gran che non funziona tanto bene soprattutto se la volete utilizzare tipo scatto a distanza è un problema si connette poi non si connette riconosce la macchina è un gran casino non so perché perché poi con il trasferimento delle immagini invece funziona bene quindi è un mistero consiglio a Nikon però di sistemarla perché è scandaloso avere un'app di questo tipo per un marchio blasonato come Nikon è davvero una cosa scandalosa infine signori la stabilizzazione la stabilizzazione devo dire non l'ho utilizzata o meglio non l'ho sfruttata la tengo sempre la tengo sempre attiva ma non l'ho sfruttata al massimo nel senso che non sono sceso a scattare 5 stop 6-7 stop più in basso di quello che era necessario perché non ha avuto una necessità però devo dire funziona bene l'ho provata 2-3 scatti non me ne sono nemmeno accorta appunto che stavo sostanzialmente scattando molto al di sotto di quello che era il tempo di scatto consigliato e quindi devo dire anche quella funziona molto bene ed è una gran figata perché appunto vi trasforma tutte le ottiche in ottiche stabilizzate questo per quanto riguarda appunto i pro per i pro come avete visto era una lista abbastanza lunga i contro sono di meno e questo già ci dice che è una macchina abbastanza riuscita allora la cosa che più mi ha dato fastidio è il mirino ma attenzione mi ha dato fastidio perché? perché prima della Z6 ho provato la Z9 la Z9 ha il monitor ed il mirino che sono fantascientifici signori il mirino è nitido più dell'occhio umano è una cosa incredibile quindi quando ho visto questo sono rimasto un po' deluso è buono ma non è eccelso come quello della Z9 lo sportello delle schede signori grande nota dolente di cui si lamentano tutti lo sportello delle schede si apre in continuazione tirate fuori la macchina dallo zaino si apre lo sportello state fotografando passate da verticale orizzontale ogni volta che ci passate vicino sostanzialmente rischia di aprirsi è davvero fastidioso Nikon dovrebbe evitare questi problemi facendo una sicura un tasto una cosa molto semplice come era una volta le prime reflex anche digitali avevano tutte la sicura dello sportello come quella della batteria quindi non vedo perché è stata tolta era una cosa fichissima comodissima i tasti allora per quanto riguarda i tasti non è un problema della Z6 è un problema di tutte le mirrorless anche quella che sto usando per riprendere quindi la Sony ha i tasti molto vicini è un problema di riduzione della massa signori i corpi macchina sono più piccoli i tasti sono più piccoli e più vicini e a questo purtroppo bisogna abituarsi perché perché i tasti ovviamente lo spazio è minore e quindi vanno più vicini e quindi bisogna imparare a come dire a essere più attenti con le dita e quindi evitare di toccare un tasto per sbaglio invece di un altro è un problema di tutte le mirrorless questo il monitor e cioè il display esterno questo è una cosa che io lamento da anni in Nikon non riescono a fare un monitor ribaltabile totalmente ribaltabile quindi che possa essere utilizzato anche per fare i video su YouTube quindi per riprendersi per farsi i selfie eccetera eccetera ma non riescono a farlo nemmeno basculante in maniera orizzontale signori è scandaloso non si riesce a utilizzare nemmeno come schermo a pozzetto o meglio dal basso si ruota quasi a 90 gradi ma dall'alto no cioè cose scandalose cioè fatelo come si deve di questo si lamentano tutti quindi è una cosa che non se ne può allora il grande problema che ho trovato in questa macchina signori è il passaggio da display mirino quindi se voi avvicinate l'occhio al mirino parte il mirino se l'allontanate parte il display bene questa cosa ogni tanto si impalla ho notato si impalla soprattutto quando forse il sensore è caldo quando si è usata molto la macchina e soprattutto ne avevo sentito parlare già sulla Z6 1 quindi è una cosa che si è portata dietro e questo dà davvero molto fastidio perché ieri ho perso diverse foto perché ero in una posizione scomodissima a fotografare delle salamandre con i piedi nel ruscello ghiacciato e avevo per forza di cose bisogno del monitor perché non potevo portare l'occhio al mirino quindi avevo bisogno del monitor mi si è impallato e ho dovuto scattare una raffica senza guardare dove stessi mettendo a fuoco ovviamente indovinate le foto erano tutte sfocate e quindi ho perso uno scatto che tra l'altro era in controluce con il tramonto e anche una foto a cui tenevo particolarmente dopo tanto ero riuscito a trovare questa bella come dire ambientazione con il soggetto messo nella posizione giusta e purtroppo grazie a Nikon ho dovuto perdere lo scatto per questo funzione che porca puttana scusate il termine non funziona e questo mi fa incazzare mi fa incazzare perché signori questa è la cosa che lamento sempre le mirrorless una macchina che è arrivata a pagare quasi 3000 euro non può abbandonare un professionista nel momento del bisogno le reflex queste cose non le facevano mai signori le reflex non è mai capitato che il display il mirino ovviamente era analogico quindi era ottico era impossibile si oscurasse e quindi e questo quando io dico le reflex erano dei carri armati a questo mi riferisco non avevano queste complicazioni elettroniche che ogni tanto si impallano e si impallano sempre quando ne avete bisogno perché quando si impallano vuol dire che state sfruttando la macchina al massimo e lì e lì e lì serve il carri armato serve l'affidabilità serve una macchina che avete pagato 3000 euro e per queste cose signori non si può non si può sgarrare perché io perdo uno scatto che magari potevo mandare un concorso vincere dei soldi e invece li perdo dopo aver tirato fuori 3000 euro attenzione questa è una grande pecca ancora cosa dire le batterie purtroppo le batterie delle mirrorless lo sappiamo sono tutte così signori fanno tutte un po' schifo e vabbè però devo dire devo ricredermi perché ad esempio confronta la sony durano molto di più ieri ho fatto mille scatti con una batteria sola utilizzando anche il display il mirino quindi riguardando le foto lunghe esposizioni quindi devo dire che una giornata la fate però attenzione perché mi è capitato invece la prima volta che sono uscito mezza giornata si è spenta la batteria non lo so non ho ancora capito bene la batteria se risente molto dell'atmosfera esterna quindi caldo o freddo se risente molto del modo in cui scattate non lo capita bene ancora però ovviamente non ha la durata di una reflex questo è sicuro un altro problema che ho riscontrato con alcune ottiche che non sono serie Z appunto ad alcuni problemi ma attenzione con delle ottiche non Nikon quindi mi è capitato con un Sigma macro 150 che non mettesse a fuoco cioè saltella un po' poi però devo provare anche a pulire i contatti dell'ottica magari sono un po' sporchi però ho visto che ballonzolava un po' con le ottiche Nikon invece va benissimo sia la messa a fuoco sia l'esposizione TTL cioè qualsiasi cosa funziona non vi accorgete che avete cambiato un'ottica Z con un'ottica AF quindi con l'attacco classico Nikon e infine per quanto riguarda le ottiche magari lo dovevo mettere anche nei problemi mi sono scordato le ottiche serie Z devo dire sono davvero top sono piccole compatte pesano poco ma funzionano bene signori sono nitide hanno un bel bokeh io ho il 50 e il 24-70 funziona davvero bene ma ho provato anche il 100-400 il 14-30 funzionano tutte molto bene hanno un ottimo bokeh sono molto nitide anche agli angoli sono davvero top però devo dire una cosa signori sono costosissime ottiche farsi un nuovo corredo della serie Z vi costa davvero un occhio purtroppo è così un 14-30 costa 1500 euro non so il 51-8 è l'unica lente forse accessibile che sta sulle 7-800 euro ma il resto superano tutte abbondantemente le 1000 euro per poi arrivare a cifre assurde il 100-400 il 24-72 lasciate perdere partono davvero i 1000 euro come caramelle molto bene signori io direi che questo è tutto per quanto riguarda questa macchina io vi consiglio ve ne consiglio l'acquisto devo dire forse un pelino ancora acerba in certe cose spero in un aggiornamento firmware che risolva quelle problematiche più fastidiose che vi ho raccontato in questa recensione direi che il video è durato abbastanza quindi magari farò un altro video dove vi faccio vedere le foto e commentiamo insieme la gamma dinamica e alcuni scatti come appunto la macchina si è comportata sul campo vi saluto iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace commentate questa macchina perché voglio sapere che cosa ne pensate anche voi ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti